Questo video riguarda i migliori 3 macchine da cucire per principianti. Il vincitore della qualità nel nostro macchine da cucire per principianti va al Brother CX70P. Hai bisogno di una macchina per cucire semplice ma al contempo completa e affidabile? Brother CX70P farà di certo al caso tuo. Adatta per sarte provette, ma anche per chi si addentra per la prima volta nel mondo del cucito e vuole una macchina completa ed affidabile sin da subito. Il tasto Start Stop ti permette di usarla senza dover ricorrere al reostato avendo così ancora più praticità nel gestire il tessuto liberamente con le vostre mani. La Brother CX70P è dotata di un infilatore d'ago e di un sistema semplificato per l'inserimento della spoline. Le 7 asole automatiche ti permettono di realizzare occhielli di varie forme e dimensioni. CX70P è inoltre dotata di un robusto crochet rotativo e un pratico braccio libero. L'illuminazione a LED garantisce una luce chiara e nitida, ed inoltre non dovrai più cambiare la lampadina. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Neki KM417A. La nuova macchina per cucire Necchi New Mirella è un modello di macchina da cucire escluivo e in edizione limitata, dedicata al centenario, si ispira alle linee delle macchine anni 50. Il design evocativo, la semplicità di utilizzo, la compattezza e la praticità sono le caratteristiche principali che hanno ispirato i tecnici Necchi. Questa nuova macchina da cucire Necchi risulta essere particolarmente intuitiva, robusta, pratica e maneggevole, quindi particolarmente adatta per principianti ma perfetta anche agli appassionati di cucito. 19 funzioni di cucito per un totale di 17 punti di cucitura disponibili, regolabili in lunghezza, compreso lo zig zag ed asola automatica in 4 tempi. Placca in metallo millimetrata e la griffa a 6 ranghi, asola automatica in 4 tempi, regolazione della lunghezza del punto, avvolgimento automatico della spolina, tagliafilo laterale e sgancio rapido del piedino. Necchi Mirella è dotata di crochet in metallo oscillante verticale e scocca interna in solida lega. Particolarmente adatta per corsi di cucito facile e creativo. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della performance premium nel macchine da cucire per principianti è l'Amazon Basics macchina da cucire. In soli 258 x 290 mm e con peso inferiore a 2 kg, questa macchina da cucire è incredibilmente leggera e compatta. È semplice da usare, ma ha tutte le funzionalità che ti aspetteresti da macchine più grandi ed è adatta sia a bambini che adulti. Ideale da usare sia con tessuto sia con carta, questa macchina da cucire ti aiuterà a realizzare rapidamente qualsiasi progetto artistico. Funziona sia con la corrente elettrica che a batteria. È quindi perfetta per i viaggi, le lezioni di cucito e gli incontri con gli amici. La luce led integrata rende semplice qualsiasi lavoro di precisione, ovunque e in qualsiasi momento. Grazie al design robusto e all'ampia gamma di funzioni, questa macchina da cucire è perfetta per qualsiasi lavoro. Potrai usarla per patchwork, riparazioni e modifiche a capi di abbigliamento, tende, cuscini, peluche, decorazioni per la casa, progetti fai da te o anche regali fatti a mano. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.